Si svolgerà domenica 14 novembre a Piaggine la settantunesima giornata diocesana del ringraziamento, un appuntamento con cui nella diocesi di Vallo della Lucania si vuole sottolineare l'importanza dell'agricoltura e dell'allevamento per l'economia dell'intero comprensorio. L'iniziativa promossa dalla diocesi retta da Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, dal comune di Piaggine, dall'ufficio di pastorale sociale della diocesi guidato da Don Angelo Tabasco, in collaborazione con il progetto Policoro e con la parrocchia di San Nicola di Bari di Piaggine, si svolgerà con inizio alle 10.30 con la sistemazione dei mezzi agricoli lungo la strada provinciale Cervati. A seguire alle 11 la celebrazione eucaristica e al termine la benedizione dei mezzi agricoli. La festa del ringraziamento è dunque l'occasione per ringraziare Dio da parte di allevatori, agricoltori e imprenditori agricoli per i doni della natura di cui abbonda il nostro territorio e che grazie all'impegno e alla costanza degli uomini e delle donne che abitano e lavorano la terra, offre la possibilità di vivere e di gustare prodotti genuini che rappresentano sempre più il marchio di qualità del Cilento. Una festa che aiuta a riscoprire il legame profondo tra natura, lavoro, tradizione e fede, elementi del tratto identitario e culturale di questa terra che va sempre più recuperato e valorizzato.